A dieci anni dalla posa della prima pietra, l'iter per la costruzione del nuovo ospedale di Vibo Valenzi è stato riavviato. Ad imprimere la nuova accelerata e la giunta regionale, che in piena campagna elettorale sblocca la procedura che riguarda i quattro nosocomi calabresi da un decennio in attesa di venire alla luce. Ieri, la firma che ha sbloccato l'iter per la realizzazione dell'ospedale della Sibaritide, consegna dell'opera finita gennaio del 2018. 2017 è invece la data fissata per la consegna del nosocomio di Vibo Valencia e quanto stabilisce il contratto di assegnazione per la realizzazione del nosocomio, sottoscritto stamani a Catanzaro tra la Regione e le imprese concessionarie che hanno costituito la società Vibo Hospital Service. I termini del contratto di assegnazione sono stati illustrati dall'assessore regionale ai lavori pubblici Giuseppe Gentile, dall'assessore al lavoro Nazareno Salerno e dal direttore generale del Dipartimento Lavori Pubblici Domenico Pallaria, presente il prefetto di Vibo Giovanni Bruno. Alla firma ha assistito l'ex presidente della Regione Giuseppe Scopelliti, così come era avvenuto ieri in occasione dell'analoga iniziativa relativa alla realizzazione del nuovo presidio della Sibaritide. Il costo dell'opera è di 143.965.000 euro, di cui quasi 100 milioni che rappresentano la quota pubblica e 43 milioni di pertinenza del privato concessionario. Progettato secondo il modello dettato dalle linee guida del Ministero della Sanità e stato spiegato, il nuovo ospedale di Vibo sorgerà in mezzo al verde, su una superficie di 57.000 metri quadri, lungo l'asse viario che collega il capoluogo con Santonofrio e con l'innesto della 3 Salerno-Reggio Calabria. Sono previsti 392 posti letto totali, 42 dei quali definiti tecnici.